Per realizzare la breve anima-sau che fu inserita nel titolo del cortometraggio, fu necessaria un poco di pazienza. A partir della immagine originale, nel fotoeditor gradativamente fu inserito il effetto Vortex per ottenere un numero di fotogrammi differenti. 30 fotogrammi sono necessari per realizzare questa breve anima-sau. Grazie per la visione!